E' un onore veramente, un onore. E' un onore gigantesco. Sono felice per te. Dimmi un po', ma adesso aggiungerai un altro tatuaggio per ricordare questa esperienza? Certo, ma c'è già una lista. Hai già una lista? Il primo è cambio batterie. Una parola che è un incubo. Sì, un incubo. Ti sveglierai, ma non mi hanno detto di cambiare la batteria. Sì, sì, è un incubo, veramente. Senti, tesoro, allora come è andata? Felice? Soddisfatta? Sì, è super emozionante, è stata una delle esperienze, anzi forse l'esperienza fino adesso più bella che io abbia mai fatto nella mia vita. Cosa farai questo weekend? La Pasqua? La Pasqua? Io avevo organizzato con Paolo di andare a Santa Cristina, però non lo so. A Santa Cristina? Hai capito, si è già portato avanti quello. Ha già prenotato il bed and breakfast. Cosa? 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 Grazie a tutti